San Sebastiano Po, Torino. La notte scorsa, al ritorno dal concerto di Liga 2 un 35enne è morto a seguito di un incidente stradale. La vittima, Alberto Molinaro, 35 anni, di San Sebastiano Po, gestore del bar 70 Caffè a Chivasso, rientrava dal concerto di Liga 2 con la fidanzata di 34 anni, rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Grazie a tutti.